Questa giornata è rivolta soprattutto ai soggetti anziani e quindi gli ultra sessantenni, ai diabetici, agli ipertesi e affetti soprattutto da patologie cardiovascolari, anche agli abituali assuntori di farmaci quali i FANS, gli antinfiammatori non-seniodei che sono notoriamente lesivi per i reni. Il diabete purtroppo è diventato l'epidemia del secolo scorso ma anche del nuovo secolo e con essa annessa la sindrome metabolica, questa patologia che poi è l'insieme di alcune malattie, tra cui la dislipidemia con il colessolo buono basso, l'insieme di acido urico elevato, di epatossiadosi, cioè effetto ingrassato e comprende anche l'obesità centrale, purtroppo questa sindrome metabolica in cui c'è spesso il diabete mellito, cioè il cosiddetto diabete alimentare legato quindi all'alimentazione, stanno diventando purtroppo la principale causa di insufficienza renale cronica, soprattutto terminale, cioè quella che poi ha bisognevole di emodianza. E quindi nei nostri ambulatori purtroppo ci capita di vedere soprattutto i diabetici. Quindi fare la prevenzione, soprattutto sullo stile di vita, noi un mese fa con la Società Italiana di Nefrogia e la Federazione Italiana del Rene abbiamo lanciato lo slogan che anche voi avete riportato presso il vostro OTG, lo sport come una compressa, cioè volendo dare un segnale forte soprattutto ai nostri pazienti, cioè coloro i quali già purtroppo hanno avuto la sfortuna di avere la malattia renale cronica e quindi purtroppo sono abbisognevoli di emodialisi, ma anche per i nostri trapiantati, che lo sport fa molto bene, perché purtroppo ci si muove sempre di meno, ci si diventa sempre più sedentari e c'è meno consapevolezza che bisogna muoversi, bisogna fare attività sportiva, che significa non soltanto fare attività sportiva, quella agonistica, che semmai dovrebbe essere sottoposta anche a un controllo più accurato presso studi cardiologici, di cardiologia dello sport, ma anche attività sportiva anaerobica, aerobica, cioè senza sforzo, che quindi può essere effettuata anche due o tre volte a settimana. Infatti c'è uno studio importante condotto su 200 emodializzati che sono stati eseguiti per sette anni, pensate, che dimostra con un gruppo di controllo, quindi soggetti non emodializzati, che viene una riduzione netta e significativa dal punto di vista statistico nei soggetti emodializzati della morbidità, cioè della possibilità di ammalarsi e di ospedalizzarsi, e anche della mortalità. In questi soggetti che hanno dei tassi di mortalità, soprattutto per patologie cardiovascolari, molto elevati. E quindi lo sport è come una comprensa, cioè lo sport fa bene e fa bene soprattutto in questi soggetti che già sono ammalati, come idealizzati, o nei soggetti che hanno avuto la fortuna di risolvere il problema, come i trapiantati. E quindi bisogna partire chiaramente dalla prevenzione. Prevenzione con lo sport, prevenzione con lo stile di vita, è molto importante anche per prevenire patologie come il diabete, che sono la principale causa, probabilmente ad oggi, di insufficienza renale cronica.